Novità nella compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania. Dallo scorso 1 gennaio il tenente Serafino Palumbo ha assunto il comando della sezione operativa radiomobile. Palumbo arriva dalla stazione di Capaccio Scalo dove ricopriva l'incarico di comandante di stazione. Per lui una lunga attività di contrasto al crimine che lo ha portato a compiere importanti operazioni messe in atto sul territorio con la compagnia Carabinieri di Agropoli. Le novità non finiscono qui. Vallo infatti rientra insieme a Sala Consilina, Eboli e Battipaia tra le compagnie che hanno subito una riforma organizzativa disposta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il provvedimento, in vigore dall'1 gennaio, ha interessato 247 compagnie e ha previsto che il comando sia affidato non più a un capitano ma a un tenente colonnello o a un maggiore. Il nucleo operativo deve essere invece comandato da un capitano e infine le sezioni operativa e il radiomobile del nucleo operativo da un tenente o sottotenente. La riforma riguarda in particolare le compagnie sedi di procura o ex sedi di procura. Resta al comando della Compagnia Carabinieri mennato Malgeri al quarto anno nel centro occidentano. Novità ci saranno anche in ambito provinciale con il comandante Antonino Neosi che dovrebbe passare a nuovo incarico.